ringrazio gianandrea baroncini assessore al volontariato e decentramento del comune di ravenna per la sua presenza con il quale abbiamo già avviato un proficuo lavoro di confronto sulle politiche di welfare e di sinergia tra volontariato servizi e territori però voglio anche rimarcare l'ottimo rapporto che abbiamo consolidato con gli amministratori tutti della nostra provincia con le istituzioni alle quali offriamo le nostre attività questo rapporto ci consente di essere un interlocutore credibile propositivo in un rapporto di rete con le altre associazioni e di vera sussidiarietà con il sistema pubblico rifugiendo quel tentativo di sostituirci al lavoro strutturato e al lavoro e al ruolo pubblico in questo modo abbiamo qualificato le nostre attività sui bisogni delle persone e offerto momenti di socializzazione attraverso percorsi di promozione culturale e turistici collaborando alla valorizzazione dei beni comuni e dei beni pubblici giungiamo a questa assemblea di bilancio dopo un periodo impegnativo per tutta l'associazione a febbraio abbiamo concluso l'istanza congressuale territoriale che ha visto una presenza una partecipazione significativa di volontari e che ha consentito di conoscerci meglio e di affrontare un dibattito profondo sui temi che riscontriamo nelle nostre realtà territoriali e di progettare una visione di futuro ancora possibile per dare valore al nostro essere volontari in un paese sempre più in difficoltà in cui emerge un sistema di welfare universale sempre più indebolito in cartella trovate gli statuti aggiornati che se vi ricordate abbiamo approvato al congresso con le modifiche che come sappiamo non saranno definitive in quanto l'applicazione della legge di riforma del terzo settore porterà ulteriori cambiamenti abbiamo chiuso l'anno 2016 con 2.195 associati presenti in circoli di volontariato 4 centri ricreativi e culturali e 8 gruppi di orti aderenti alle due associazioni hauser volontariato conta 685 associati di cui 351 donne e 334 uomini hauser promozione sociale conta 1510 associati di cui 936 donne 574 uomini complessivamente riscontriamo un incremento di 109 nuovi associati rispetto all'anno precedente questo è un dato sicuramente positivo che impegna tutti a una grande responsabilità e consapevolezza del nostro agire in preparazione di questa assemblea in ogni singolo circolo in ogni centro sociale è stato discusso il rendiconto gestionale e la situazione patrimoniale con i coordinatori il coordinamento di riferimento e cinzia per quanto riguarda il volontariato con denise del centro servizi per il territoriale i prospetti che trovate in cartella che in seguito vi verranno illustrati sono i bilanci consolidati aggregati di tutti i circoli del volontariato e del territoriale approvati dal direttivo il 20 aprile scorso vi presentiamo così due prospetti suddivisi uno del volontariato consolidato e uno del territoriale consolidato i bilanci economici sono il rendiconto del nostro stato patrimoniale degli investimenti immobiliari e mobiliari che hanno acquisito che abbiamo acquisito nel corso degli anni e del rendiconto gestionale formato dalle entrate da convenzioni che abbiamo sottoscritto con le diverse istituzioni o da privati dalle erogazioni liberali di filo d'argento dai contributi del 5 per mille dalle attività ricreative ludiche svolte dai nostri centri sociali nelle uscite invece troviamo i costi fissi della gestione e delle strutture i costi di manutenzione gestione dei mezzi gli investimenti in tecnologia i rimborsi ai volontari le assicurazioni e le spese del personale e dei collaboratori è stato questo un anno di grandi investimenti per la nostra associazione abbiamo utilizzato i fondi accantonati e finalizzati per l'acquisto della nuova sede è stata una decisione importante che non ci ha esposto finanziarmente però come i bravi padri di famiglia dobbiamo affrontare il futuro con parsimonia e oculatezza e sapere gestire bene le risorse che abbiamo rimasto a disposizione i risultati gestionali e patrimoniali sono positivi il segno che la nostra associazione è in buona salute dobbiamo però sapere affrontare allo è ribadito niente e quindi è in buona salute posso anticipare che il rendiconto lo ripeto perché è una materia che mi sta a cuore quella della parsimonia e dell'oculatezza posso anticipare che il rendiconto di gestione per il volontariato si chiude con oneri costi per euro 439.956,83 euro e proventi ricavi per 452.329,02 euro con un risultato gestionale complessivo positivo di 12.372,20 all'interno di questo numero aggregato naturalmente ci sono i centri i circoli più ricchi e quelli meno ricchi quindi quelli che chiudono con un bilancio positivo un po più elevato e quello invece che vanno a pareggio però il bilancio complessivo aggregato è positivo il territoriale anche presenta un rendiconto economico di oneri cioè di costi di euro 114.107,65 e proventi ricavi di euro 121.454,29 con un risultato positivo complessivo di euro 7.346,64 abbiamo consolidato anche per il 2016 la scelta che le risorse dei contributi del 5 per 1000 tornino al territorio tramite progetti innovativi di sostegno e di promozione sociale e culturale che ci vengono presentate dai vari circoli questo sistema ci rende più visibili e ci consente di partecipare alla vita delle nostre comunità in modo attivo e concreto nel 2016 abbiamo avuto un riconoscimento maggiore da chi ha sottoscritto il 5 per 1000 quindi dalle persone che hanno fatto la denuncia dei redditi di 15.361 euro che verranno anch'essi riutilizzati nei progetti presentati mi piace ricordare i tanti progetti che finalizziamo alle scuole come diritti al futuro leggere uguale per tutti i laboratori e le borse di studio che con buoni libro consigliamo ai ragazzi più meritevoli o premiati per i lavori svolti nelle classi sui temi della solidarietà dello scambio tra generazioni della conoscenza del loro territorio investire sulle giovani generazioni l'abbiamo anche saccito al congresso per noi significa investire sul futuro quindi è un fa parte della nostra strategia appunto lavorare con i bambini investire sui bambini oggi presentiamo la rendicontazione dell'anno 2016 che è quel librettino azzurro che vi abbiamo consegnato in una veste diversa dagli anni passati abbiamo scelto di proporre due documenti distinti quello che vi consegniamo oggi è il dettaglio specifico delle nostre attività volontariato e promozione sociale la quantificazione delle ore e delle prestazioni suddivisi per servizio alla persona e alla comunità che dimostra il lillievo della nostra presenza sul territorio e che è più comprensibile e leggibile l'impatto sociale che le nostre attività hanno sulle comunità in cui operiamo del bilancio sociale invece abbiamo deciso di affedarne la struttura a una studentessa universitaria che oggi è qui presente è quella morettina che non fa parte dei nostri delegati ma è qui che si occuperà di formalizzare la nostra identità la nostra storia la mission i valori la nostra visione di prospettiva e il nostro assetto organizzativo questo sarà il biglietto da visita della nostra associazione che presenteremo in un incontro specifico pubblico in autunno una puntualizzazione a parte la merita la comunicazione abbiamo investito e dedicato molto lavoro per rilanciare il nostro modo di comunicare inteso come espressione sociale un aggiungere un valore al servizio di tutta l'associazione e un mettere a disposizione dei nostri interlocutori l'importanza delle azioni che hauser mette in campo ogni giorno questo nuovo approccio alla comunicazione l'abbiamo fatto rinnovando il sito web il giornalino utilizzando i social producendo spot video con l'obiettivo che il nostro lavoro sia compreso e diventi patrimonio comune per la costruzione di una discussione di un sapere di una cultura debora ha fatto un ottimo lavoro i dati e i contatti che tra poco ci presenterà sono la soddisfazione migliore di un risultato che ci responsabilizza e ci impegna sempre di più nel 2016 abbiamo effettuato 60.350 ore di servizio alla persona accompagnando presso le diverse strutture sanitarie 1423 persone percorrendo su tutta la regione anche fuori regione 373.941 chilometri abbiamo svolto 84.767 ore di servizio alla comunità svolgendo 40.035 ore di attività di utilità sociale e 10.304 ore di supporto ai luoghi di cultura naturalmente nel libretto della rendicontazione trovate i dettagli per circolo tutti i numeri precisi che debora ha raccolto i nostri numeri sono qui chiari e trasparenti e come associazioni siamo pronti ad affrontare e a portare il nostro contributo di supporto e valore aggiunto per avviare quel cambiamento necessario a migliorare i servizi nel nostro territorio finalmente appare più chiaro l'orizzonte della definizione del codice del terzo settore e dei decreti legislativi collegati serviranno approfondimenti formativi per capire bene dove si colloga il nostro progetto hauser il valore della nostra storia e delle nostre molteplici attività abbiamo sollecitato insieme ad ad e anteas nazionali e devo dire che qui nel nostro territorio c'è una bella collaborazione con le nostre associazioni cugine la ripresa del percorso legislativo della proposta di legge misure in favore dell'invecchiamento attivo perché riteniamo che sia arrivato il momento di avere un riferimento una normativa quadro nazionale che renda omogenea e praticabile la partecipazione attiva delle persone anziane siamo cresciuti nella convinzione che modernità e progresso sociale culturale e civile camminassero di pari passi che avremo dato ai nostri figli più opportunità di quante ne abbiamo avute noi volevamo lasciargli un mondo più aperto istruito più giusto con meno guerre e odio muri e frontiere con meno disuguaglianze tra ricchi e poveri potevamo anche prendere in considerazione l'ipotesi che non tutto si sarebbe potuto realizzare ma era inimmaginabile un errettamento sociale e culturale come quello che stiamo vivendo il risultato di questa modernità è sotto gli occhi di tutti cresce la povertà la disoccupazione giovanile viaggia sul 40 per cento diminuiscono i servizi alla persona una vita di lavoro per i giovani non corrisponderà a una pensione dignitosa la qualità della vita degli anziani peggiora anno dopo anno tutto questo accade nel bel mezzo di un importante cambiamento demografico che vede il nostro paese crescere come indice di vecchiaia l'italia è il paese più vecchio d'europa e l'emilia romagna è il paese più vecchio d'europa il 21,7 per cento della popolazione ha più di 65 anni oltre 13 milioni sono gli over 65 e 3 milioni sono gli over 80 la spesa dei per i servizi sociali dedicata agli anziani è diminuita negli anni del 7,9 per cento i dati census ci dicono che molte famiglie hanno usato i loro risparmi o si sono indebitate per pagare l'assistenza a un non autosufficiente alla domiciliarità ricorrono 2,5 milioni di perso di anziani mentre poco più di 300 mila si trovano nelle strutture residenziali le famiglie per i propri anziani spendono lo 0,59 del pil più o meno quanto lo spadato spende per le indannità di accompagnamento l'assistenza domiciliare che i comuni offrono copre appena il 10,3 per cento del fabbisogno e potremmo continuare a lungo con dei dati che ci dicono e ci dimostrano che il nostro paese affronta la sfida del cambiamento demografico con preoccupante ritardo garantire una vita dignitosa a tutti i cittadini è un obiettivo che se non si affronta per tempo rischia di diventare un'emergenza irrisolvibile allora occorre ridisegnare un nuovo welfare almeno per quanto riguarda la qualità della vita delle persone adulte per intravedere una nuova idea di vecchiaia è necessario ripensare alla nuova organizzazione delle città riqualificando il patrimonio immobiliare in cui l'abitare non sia una condizione costrittiva ma una protezione alla luce di queste considerazioni del cambiamento demografico e della carenza dei servizi rivolti agli anziani alle fasci più deboli leggiamo un ritardo e una debolezza politica che ci preoccupa molto allora mi piace pensare ancora una volta che la nostra associazione con la sua articolazione che parte dai circoli e dai centri ricreativi culturali attraverso le attività che svolge nei territori nelle periferie che non si risparmia di fronte al disagio con le persone malate con i disabili con i bambini con le donne con gli immigrati possa davvero contribuire a quella speranza di cambiamento di cui ognuno di noi ha bisogno di cui il nostro paese ha bisogno restiamo allora umani nel nostro operare come lo sono i nostri valori costituenti proseguiamo il nostro cammino come portatori di relazioni e di buone pratiche vi ringrazio tutti e ognuno per quello che fate ogni giorno per il tempo prezioso che mettete a disposizione delle nostre comunità mi sento però di fare due ringraziamenti particolari uno a cinzia e uno a denis per il prezioso lavoro qualificato e professionale che ci mettono a disposizione ogni giorno anche se in ruoli diversi e vi assicuro condividono con noi oltre al senso di appartenenza il valore profondo di una missione dedicata e intensa un grazie di cuore grazie